Vedetevi sta finale che è l'ultima grande sfida No ma io mi sto già preparando agli insulti Hai presente l'ultimo video in cui sono apparsi tipo 100.000 like? Sì, sì, sì Non userò Puffin e C4 Neckleymore Holy shit è vero! Ed eccoci qui finalmente siamo alla schermata C'è lui, lo leggete lì per l'ultima volta Presentati Allora ragazzi io mi chiamo Luca Già ci hai fatto cascare le palle La leggenda ha avuto un inizio, deve avere una fine Sennò poi continueremo a leggere i commenti Iiii Luca oggi Vogliamo dire le regole? Vai vai comincia pure Ci saranno tre modalità Stavolta c'è un piccolo cambiamento perché non abbiamo più messo il Cecchino Sono una persona buona Oggi abbiamo un colpo in canna di Black Ops 1 praticamente Che poi vi spiegherò se capita le regole Armi 1 contro 1 Chad 1 contro 1 quindi i soliti Ora li andrò a mettere nel cappellino Blur Lucazzi quale ti piacerebbe che capitasse? Chad Ah Chad è la più dura e quindi me la tolgo Armi 1 contro 1 L'unica che non volevo capitasse E ora invece facciamo tutte le mappe Che mappa vuoi ai Luca? Ander pass Rust C'è un segreto? Mi sono anche preparato Prima che stessimo registrando si è messo su Rust a cercare gli head glitch Vi ho detto tutto Buona fortuna che vinca il migliore dai Ovviamente Lucazzi non lo sentiremo perché non lo voglio sentire durante la partita Se no mi deconcentra L'avete anche sentito nell'intro Che cosa succede se arriviamo a un tot di like Quindi io spero che l'abbiate già lasciato perché io qui sudo Guarda dov'è guarda dov'è guarda dov'è Pia test RPG Uuuuuh Sii No 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 Che sta usare? La K Mi ha detto di sicuro non userò la K e la CR Usa la K Sei un vero burlone No no Ho parenti in casa I puffi li mortacci di che in tuo dice? Cosa sta facendo? Cosa? I puffi è l'RPG e il C4 Già iniziamo Ha usato il Wav Cosa? Com'è successa sta cosa? Tu No, regà Non ho considerato il fatto che lui è host Oh Quando si è host con le armi in private Lasciate verde Muori, figlio di BASTA FARE ITMARKER Dietro la macchinina Guarda come gioca, lagga Cos'è? Rubamogli la classe Lo voglio ammazzare col C4 A sfre Puffi, puffi Sono puffi Cioè, a sto punto non lo chiamavo armi 1v1 Lo chiamavo puffi 1v1 Dov'è? Completamente scomparso Se è sopra, mi cazzo È sopra veramente Oh mio Dio Vieni qui Non posso fare questi fail Oh Hitmarker Vai vai Mi serve lui Eccolo Controller bianco Nelle occasioni in cui mi incazzo Invece di sfondare l'ultimo controller che mi è rimasto Si sfonda il controller bianco Qua tocca che è mia classe Io lo controllo su Rust O li fai con l'UMP O sei veramente il Lugozzi in tutti i sensi Vi giuro non so dov'è Dove che è? Dove sta? Sta caperando in una maniera allucinante Eh beh Mo con l'UMP vi giuro Dai vabbè raga Ma usa solo i puffi Dove sta? Si è ucciso Spider-Man scende dal cielo Bam Torna a casa Dai Mi prefaira Oh god God 11-7 Guarda che figlio di Mi sta prendendo lo stacco così Sta giocando in una maniera che è fuori dal mondo Eh Eh Scomparso raga È una sorta Non lo so È un insetto È una cavalletta È un grillo Movimento 5 stelle Fa parte Eh non lo so Da dietro 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 Sapeva che spawnavo qui Eh di god Sta a fare la partita di Cristo Guarda sotto mi spawno Eh questa è persa È persa È persa Si è allenato Avrà fatto tipo le lobby con coso? Con dei manzini Con red lime Troppo più forte delle volte normali No vai 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 Go on Go on Con becchino matto Con becchino matto Si è cambiato arma Si è messo l'UMP silenziato Ah Pensavo ad avercela in pugno Anche le carogne sbagliano 15-15 Basta Stannarmi Basta Sbagliato il controller Beh vabbè Ma arrivano le tasse sulla luce Sull'acqua E sui controller rotti Per Lugozzi Ditemi se è normale Guarda Guarda dove sta Che sempre nelle fognature Sei in topo Dio Gli ne mancano due No 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 Dove sei? Oh 18-17 Lo sapevo che Stavi qui Ma ti ho prefireato Mi devo andare a mettere là L'ho fatta L'ho visto No ho sbagliato il puffo Si 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 Con la semtex L'ho visto Ho visto l'ombra Ho visto l'ombra Si si 19-19 Si può fare Contro Lugozzi Devi giocare da Lugozzi No No i puffi Lo vedevo da l'arvolante Puffetto tattico No È persa È il signore che lo vuole Il karma per i sei episodi No 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 Guarda Glodo Cioè io non c'ho parole Di come hai giocato Non ti vergogni Ho sbagliato quei controller Da spawnare No Si è aperto il controller Ha aperto il controller Questo è veramente pessimo Eh Dio Uffi Camperato Tu invece L'inizio della partita L'hai giocata con i fiori Mi lanciavi le rose Peccato che ci stanno ancora Due partite da andare Un sorteggio da fare Allora Te prego Oh Hai grice Puoi dire qualcosa Puoi fare qualche maledizione Sul cappello Ti auguro solo buona fortuna Come fanno i veri uomini Sei in gufo Sei Chad uno contro uno Quella che mi fa più paura Perché io non so che faccio a giocare Chad L'ho sempre detto Passiamo alla prossima partita 1 a 0 per Lugozzi A breve 1 a 1 Ok regà Questa è greve La partita si è messa Nel peggiore dei modi Ma già tocca sperare Di riusci a vincerla questa Cos'è sto lag Uno di connessione Di porno hai messo Poi porno per te Sono Ying delle bestemmie Visto L'ho visto Sì Sì Artro che pama Sto esultando veramente Per una kill con un cecchino A una persona in veterano Bravo blur 6 anni di mv2 Si vedono tutti 1 a 0 e questo mi garba L'idea è quella di cambiare Sempre strategia Se una volta facciamo col cecchino La volta dopo Andiamo con le armi Addosso a lui Se mi aspetta È vergognoso Mi sento non Mario De più L'ho visto L'ho visto L'ho visto Spariamo lì E lo famo esplode Se ne è accorta Va lì Eeeh L'ho visto 1 a 1 Va bene Si cambia ancora strategia Cos'è cos'è Non mi funzionano più i tasti Grave mi si sono rotte le Ah ecco mi ha preso mo Mi si sono rotte le freccette Per usare i puffi Andata Ciao Partita persa Senza puffi contro lucazzi Non lo so È come andare su un video Di me contro te E sperare Di vedere qualcuno Dai Che fa video belli Con sta cr silenziato Cos'è Come cammina È basso È nano Che rabbia oddio Ha rotto il vetro lì Sta là Eccolo Io ho sparato Dai a veterano Gli faccio il marker Sta spuntata qua Se lo frego sul tempo E mi riesco a mettere dietro le casse È scomparso Regà fa degli aggiramenti Che so Un altro livello So call of duty 21 So il futuro Sti aggiramenti De lucazzi L'ho visto Ah Goto Goto E porta a casa Quanto ho fatta eh Perché lo sapevo Che se non passi da una parte Passi dall'altra Due a tre L'ho tenuta viva L'ho tenuta C'ho uno Sta crashando la partita Se mi ammazza per il lag Urlo È infattibile C'ho uno fisso Connessione degli indiani Pure questo Gli parte non lo so Dalla casa dei tartaruga ninja Sotto a Alla città I ragazzi da dietro Una deconnessione Non mi riesco a muovere Mi ammazza da dietro Mi lagga tutto Se vinco questa È un altro livello C'è Un'attacca contro quattro Devo piazzare Beh ma ho perso un minuto di tempo Per muovermi da lo spawn Per favore piazza Piazza Questa piazzata era importante Sì Goto Ha sbagliato lui Meno male Aveva pensato che mettessi La bomba sull'altra Bono come il pane Quando esce dalla lavatrice D'inverno D'estate E pure di primavera Sto giocando con il cecchino Veramente Perché Sto round deve piazzare Trenta secondi per piazzare Ha piazzato su A Sì Sì Che numero che ho fatto Tu che numero Uuhu Mori Goto Sì Sì 4 a 4 Sera chiappa Eravamo andati sotto De due Ma non perdiamo la speranza Non la perdiamo mai No dai Come faceva a sapere Che stavo lì Riconosce tutti gli spot Ma visto per il rotto Della cuffia Come parlo Che sto a dei manzini Veramente E dai Spunta E tu E sto buffo Sì Uffa Questa vale il mondo Questa vale tutto Quanto Vale il calice Vale la cena Vale il pane Vale il vino Vale il sangue Vale tutto Dai che spunti là Dov'è Dai lo sappiamo Facendo il giro strano Col fall Con un colpo Se va avanti così Vince lui No Non ci voglio crede Non ci credo Guarda dove si è andata a mettere No dai Ma non c'ho parole 7 a 5 Ragazzi sto a piazzare 5 secondi Ho finito di piazzare un secondo Ho piazzato alla stessa bomba Eccolo Eccolo Sì 6-7 E' ancora aperta Non voglio insinuare Però è ancora aperta Mi sento Mario Se io lo rifaccio Vai Eh vabbè C'è solo un unico modo Per gestirsela Sì 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 Sitti tutti 7-7 Serve lui Serve il cappello blur Con becchino della vita Questo Dove spunti Oddio è lui Non è lui C'ho le mani che veramente C'hanno la pizza sopra C'hanno Oh l'ho visto L'ho visto Ho visto Sì Dodo E la sente smatta 1-1 Di come back E' più bello Sono felice Mi piacciono le mie granate Dure ed esplosive granate Che culo Come il pane 1-1 E mo Penso alla sorte Quanto ci vuole bene C'è quello più ansioso Semplicemente Regà è come un colpo in canna Un proiettile solo E se spariamo E non prendiamo l'avversario Possiamo o accoltellare O tirare il coltellino Da combattimento Ovviamente dopo che uccidi L'avversario Hai di nuovo un colpo Solo questo Tocca solo scegli la mappa Scrapyard Uh dai Ok regà Ultima sfida Chi vince questa Vince tutto Chi vince questo Termina Una storia comunque più bella Di Beautiful Di Twilight Fate voi O non lo so Di Ciccio e Clash Royale Boh fate voi Ok regà Qui serve la precisione Tanta tanta mira Perché non voglio sbagliare Il primo colpo Quindi ci mettiamo 6 di sensibilità Ci abbiamo 5 vite Eccolo Sì Oh oh Ma questo colpino Come lo vedi Sì Vabbè regà Non me potete battere Sto troppo più forte C'è una precisione regà Che sorpamage Della Desert Eagle Abbiamo solo 5 vite E critiche Potrebbe durare un secondo Come potrebbe durare Che poi arriviamo A 4 morti Tutti e 2 E lì è brutto Veramente Ha già cominciato A camper up Pesante Eccolo No ho sparato Sta a prendere la mira Per ammazzarmi E non muovi tutto E non muovi tutto ambito E lo devo far sparare Bello Sono scecchino La prossima volta Faccio i trick E cada eagle 3-1 Buono come il pane Me ne mancano solo due E' finita Sono molto scaramantico Su queste cose Ma è finita Non me può fare il comeback Non lo può fare veramente No Ho fatto il fail Ho fatto il fail Lace il coltellino Non si vede nemmeno E' anche il tempo Di renderti conto Di che cosa è successo Lugozzi Eh infatti Sì Finisce qui Una storia Abbiamo promesso Che questa sarebbe stata L'ultima Lugozzi A me Ha fatto molto piacere Averti qui Tutto mio al piacere Avrò possibilità Di non lo so Di riaverti Magari non con un 1v1 Un'apparizione così Modica sul canale La farai mai In un futuro Possiamo promettere Che a 80.000 like Mi appare Non ti posso Darsi a sta sicurezza 85 Buttala Noi buttiamo l'amo Poi vediamo la gente Che cosa vuole Ragà Io uno contro uno Con Lugozzi Sono finiti Vi esorto ad arrivare A 85.000 mi piace Se rivolrete poi Un'apparizione Qualcosa di Lugozzi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Madonna Un salutino Lo puoi fare E' stato un piacere raga Oh